Che campionato è stato? Che stagione è stata per il calcio italiano? Ma buona, interessante, perché vediamo ancora non si sono decisi né campionato, né coppe, né retrocessioni, quindi certamente qualche disfunzione nell'applicazione dell'elettronica c'è. Non è convinto quindi dell'uso del bar? Non l'uso detto così, no, diciamo il bar in certe situazioni è insostituibile, però quando è fiscale fuori dal fuorigioco, dalla palla dentro e fuori, credo che sia poco positivo. Il Milan è un passo allo scudetto, si aspettava una stagione del genere dai rossonedi? Beh, ha fatto sempre bene, quindi dipenderà da loro, quindi questo si vedrà, però insomma... Per quanto riguarda Donnarumma, la prima stagione a Parigi del portiere nazionale è stata piuttosto difficile, che consigli darebbe? Ma non c'è da dare consigli, ha vinto gli europei, ha fatto grandi cose, è lì in una squadra di vertice, quindi ha tutto davanti. Ti consiglierebbe di restare a Parigi? No, io non consiglio mai, faccia uno quello che ritiene opportuno.